Vieni a mangiare con noi? Dove? Al veliero di Misilmeri Allora vero senz'altro Perfetto, ci vediamo al veliero La qualità al prezzo giusto Al veliero potrai gustare una cucina raffinata Con specialità di carne e pesce E il trionfo del palato Sì, al veliero in via Generali Sucato 3537 Prenota allo 091 8723 172